Scusi buon uomo, mi sa dire l'ora per favore? E 5 e 35. Fai sicuro? E 36. Grazie. Prego. Ha mangiato il ciuchino, eh? Che no. Senta, mi sa dire che ora sono adesso? A una volta. Le 7 e un quarto. Eh, ma sono le 7 e un quarto a spaccare, incredibile. Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le arzo. Sopra c'è il cammarino, vedi? C'è il cammarino. C'è il cammarino. C'è il cammarino.